... buongiorno amici di youtube e benvenuti nel mio canale oggi facciamo la prova della gopro 9 era deformata la scheda pazzesco pazzesco non so se vedete qui ci sono tutti i vestiti si una volta fino alla dove fanno dove comincia il più brutto la strada buongiorno amici di youtube e benvenuti nel mio canale stiamo facendo una prova con la gopro hero 9 in questo momento siamo qui ai laghetti nino gare no quasi brutto su un sentiero ma non riesco a andare bisogna andare per quella esterna in teoria qua questo qua dove si arriva la chiesa più agibile stiamo facendo la prova non so se ho messo giusti i settaggi prova microfono funziona funziona non funziona ciao amici e benvenuti nel nostro canale la luto prova microfono prova qua ma gente di manovale vedremo qua come è costruito 4,5,5,5,5,5,5.... chissà se arriveremo mai a questo famoso laghetto di nogare stiamo facendo una camminata per no perché stiamo facendo una camminata c'è Ghirino il nostro cane stiamo cercando di trovare il lago maggiore no non si chiama il lago di nogare il più grande ma non so se ce la faremo questo è il sentiero che è già morto non posso sentire niente sembra famoso ma no certo foico vediamo questo è tutto il sentiero benedissimo l'hanno appena asfaltato meravigliosa l'unica paura qui devono trovare i nostri amici estracomunitari perché perché si non voglio dire altro perché si asfalto bellissimo non credevo che erano così belli da poco si guarda che bello qui c'è un buco e un muretto stupendo è questo è il famoso laghetti di nogare è ormai diventato una riserva naturale siamo qua a provare a fare la prova un palla italiano ecco siamo qua a fare la prova della nuova 2 pro 9 no si spegni perché non consuma le batterie però si è accesa si ha quando ti cade forte con qualcosa che la gente vuole vederti si attiva poi se te vuoi puoi fare anche la possibilità del sempre acceso oppure sempre spesso lo che consuma molto molto adatto dopo voglio vedere la stabilizzazione ma non so ne che sia già attivata quella massima eh però adesso avevo il sole contro vediamo come si vede un bel grandangolo in realtà questo che ti vedi qua non è usato tutto ancora di più sembra che dopo si può mettere anche devo impostare infatti che se vedi quel che ti vede del del grillo 16 9 in teoria qua dove si è esser cosa ancora in fondo va dove darlo come si è esser qua un un laghetto che figata quanti anni che non vedo un laghetto che timi e i miei da ho scontato ecco l'ho qua c'è l'ho qua Grazie a tutti. 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 Da dentro c'è le formiglie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.